Martina Guigi, tutto molto semplice, 25-13, 25-11, 25-14 contro la Svizzera, forse persino più semplice di quello che pensavate? Ma sì, sicuramente è stata una partita un po' senso unico, siamo state molto aggressive, credo che abbiamo interpretato bene il nostro discorso di tenere alto il nostro ritmo, di non seguire ritmi che magari erano più blando dell'avversario e abbiamo portato a casa una bella vittoria. La difficoltà era quella, quella magari di potersi adeguare un po' l'unica difficoltà possibile in una partita così? Sì, sempre è un po' difficile se l'approccio, queste partite che appunto hanno un ritmo molto diverso da quello a cui siamo abituati, da quello a cui siamo appena tornati dal Grand Prix, quindi a volte proprio uno può inciampare su queste piccole cose di adattarsi e poi di lasciar venire sotto troppo l'avversario, noi l'abbiamo sempre lasciato con un grande margine di punti e sicuramente questo ci ha permesso di essere più tranquilli nel gioco. L'errore adesso sarebbe pensare che domani con la Francia potrebbe essere facile più o meno allo stesso livello, no? No, che domani con la Francia sarà la partita più difficile in assoluto del girone, sicuramente loro saranno molto più aggressive e sono fondamentali di attacco muro, quindi dobbiamo aspettarci ogni giorno una battaglia, se poi dopo l'approccio va come oggi, tanto meglio.